Cos'è Made in Italy? Made in Italy è uno spazio di visibilità, una vetrina aperta per tutte le eccellenze artigiane italiane che sono espressione appunto del Made in Italy. È una vetrina aperta sia in Italia ma anche all'estero. Copriamo i paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra ma anche Stati Uniti e Giappone. Cercando in Amazon Made in Italy nel campo della ricerca esce fuori la vetrina e da lì ci sono tutti i percorsi tematici relativi alle categorie piuttosto che alle regioni come quello relativo alla regione Piemonte che stiamo pubblicando oggi. Un'iniziativa anche in tutela del Made in Italy, tanti prodotti piemontesi, ruolo della regione. Perché avete voluto questa iniziativa, Assessore? Perché consentire a un certo numero di nostre imprese piccole o micro imprese artigiane e io mi auguro che oggi sono 50 ma che il numero cresca rapidamente di essere presenti su una piattaforma di mercato mondiale come Amazon significa dare a queste imprese una concreta opportunità di crescita di aumentare le loro vendite, di aumentare il loro fatturato e di essere presenti fuori dal mercato locale italiano che ha tutte le difficoltà che sappiamo. Con queste dimensioni di impresa effettivamente ci sono per essere presenti all'estero una serie di difficoltà anche solo proprio organizzative, logistiche. Il fatto di essere supportati in questa operazione dalle competenze di un soggetto come Amazon che fa questo di mestiere rappresenta davvero un'opportunità grande. È importantissimo per guadagnare la fiducia degli artigiani e portare a più di 300 milioni di clienti in giro per il mondo le eccellenze artigianali italiane, un prodotto che è bellissimo come italiani sappiamo che siamo molto orgogliosi di questo tesoro e grazie ad Amazon, grazie ai nostri sistemi e grazie ai clienti che vengono sui nostri siti siamo in grado di portarlo in giro per il mondo. Quello che noi facciamo sono due cose, innanzitutto per i nostri clienti gli presentiamo il prodotto nel modo che più è all'altezza della qualità che c'è dietro ma soprattutto diamo una mano agli artigiani per insegnarli a lavorare nel digitale e nell'e-commerce che è una sfida nuova che stanno imparando ad affrontare. Abbiamo prodotti alimentari quindi andiamo dal caseificio piuttosto che salumificio gli alcolici piacciono anche molto a prodotti artigianali, artistici quindi dai gioielli alle scarpe abbigliamento e prodotti in pelle. Saranno rispettate quelle che sono le caratteristiche di Amazon quindi disponibilità immediata, velocità nel far arrivare a casa il prodotto Amazon sappiamo che è molto attenta su questo. Amazon è molto attenta, d'altra parte non vogliamo neanche spingere troppo gli artigiani in qualcosa che può essere problematico per gestire da loro gli artigiani comunque hanno bisogno del tempo per produrre i propri prodotti quindi gli diamo il tempo di gestire al massimo la qualità della loro produzione gli aiutiamo in due modi. Uno cerchiamo di fargli capire la facilità con cui in realtà si può gestire la logistica e due gli mettiamo a disposizione anche i nostri servizi di logistica con i quali possono mandare la loro merce nei nostri magazzini e siamo poi noi a occuparci con i livelli di qualità che i nostri clienti conoscono in tutto il mondo. Alla Regione Piemonte ha anche il ruolo di certificare queste aziende le aiuterete a sbarcare più velocemente su Amazon questo emerso? Voi date una sorta di bollino di qualità e così? Quando Amazon è venuta a prospettarci questa opportunità Amazon chiaramente ha anche il problema di essere certa della qualità di ciò che finisce sulla sua vetrina Made in Italy per accelerare questa fase di verifica della qualità dei produttori e delle produzioni noi siamo partiti dalle imprese che hanno ricevuto da noi il marchio di eccellenza artigiana quindi da una certificazione che in qualche modo è stata già fatta e peraltro assolutamente scontato che anche imprese nostre artigiane che non hanno il marchio di eccellenza artigiana perché magari non sono state coinvolte da questo progetto non gli è interessato di farlo è assolutamente possibile anche per loro aderire sarà in questo caso direttamente Amazon che andrà un pochino più a fondo sulla certificazione della genuinità dei prodotti ma noi sappiamo benissimo che il nostro marchio dell'eccellenza artigiana seleziona un certo numero di imprese che sicuramente sono di grande qualità ma per fortuna anche non sono nemmeno le uniche di grande qualità nella nostra regione e se non bastasse c'è anche il marchio di eccellenza artigiana della regione Piemonte che dà un plus a questi prodotti esattamente è un percorso che non stiamo facendo da soli perché sappiamo che è molto difficile poter garantire l'autenticità di un prodotto in questo Amazon ha sempre quel legame di fiducia nei confronti del cliente per questo in particolare anche per la regione del Piemonte ci siamo affiancati a un marchio che è quello del Piemonte Eccellenza Artigiana sappiamo che i prodotti certificati da questo marchio sono effettivamente prodotti made in Italy Grazie a tutti